Quest'anno compie 25 anni l'EcoTour e ogni anno è stato adattato, in qualche modo perfezionato e reso ancora più appetibile. In questo 25 annale invece quale sarà il carattere? Ma guarda, l'aver scelto un format professionale sin dalla prima edizione, cioè quindi mettere insieme, far incontrare la domanda e l'offerta, ci ha garantito dalle divagazioni intellettuali che poi le avrebbero disperso le potenzialità. In 25 anni noi non abbiamo mai mancato un appuntamento all'incontro B2B e non è stato mai un B2B uguale a se stesso, sia per quanto riguarda l'offerta e quindi le regioni italiane, che ormai partecipano tutte, e sia chi compra i buyers che vengono da 14 paesi europei. Ecco, vengono, vivono la nostra realtà, i 10 ci rincontrano B2B, l'11 fanno le post-convention tour, c'è gli approfondimenti di mercato sulle destinazioni e poi la valorizzazione dell'elogastronomia, la valorizzazione dell'ambiente, la necessità di mantenere questo ambiente, di dire un no forte a Ombrina. Cioè noi soprattutto in questo momento dobbiamo far diventare Couture momento di business e lo sarà. È stata aggettivata la borsa più produttiva d'Italia, il rapporto sul turismo natura con i dati Istat e con il professor Paolini che ne governa, diciamo, il futuro, la redazione, certifica che siamo la borsa più produttiva d'Italia. Ecco, tutti questi elementi, però abbiamo anche rinunciato ad avere quelle grandi scale internazionali che poi ti confondono. Ecco, una borsa in misura d'uomo, in misura di imprenditore, che ha scelto di vivere i canali colori verde e blu. Quindi la natura è tutto tondo e su questo stiamo costruendo il futuro della nostra regione.